Non posso più aspettare. Non posso più aspettare. Non posso più aspettare. Puoi verificare i dati. Puedes verificare i dati. Lei può superare qualsiasi ostacolo. Ella può superare qualche ostacolo. Lei può superare qualsiasi ostacolo. Lei può superare qualsiasi ostacolo. Non possiamo lasciare che questo accada. Non possiamo permettere che questo accada. Non possiamo lasciare che questo accada. Non possiamo lasciare che questo accada. Potete mantenere il segreto. Faccio una torta per la festa. Faccio una torta per la festa. Faccio una torta per la festa. Non facciamo progetti definitivi ancora. Non facciamo progetti definitivi ancora. Non facciamo progetti definitivi ancora. Faccio una torta per la festa. Lei fa un corso di fotografia. Lei fa un corso di fotografia. Lei fa un corso di fotografia. Fai attenzione a come parli. 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 Non può vivere senza musica. Puoi confermare la tua presenza. Lei fa una donazione anonima. Lei fa una donazione anonima. Non facciamo confusione qui. Non facciamo confusione qui. Non facciamo confusione qui. Fai la differenza con il tuo lavoro. Fai la differenza con il tuo lavoro. Fai la differenza con il tuo lavoro. Quello è il risultato che speravamo. Ese è il risultato che speravamo. Quello è il risultato che speravamo. Questa non è l'opzione che preferisco. Questa non è l'opzione che preferisco. Quelle sono soluzioni temporane. Esa sono soluzioni temporane. Quelle sono soluzioni temporane. Questi sono gli obiettivi a lungo termine. Questi sono gli obiettivi a lungo termine. Questi sono gli obiettivi a lungo termine. Posso chiederti un piccolo favore. Posso chiederti un piccolo favore? Posso chiederti un piccolo favore? Non posso accettare questa situazione. Non posso accettare questa situazione. Non posso accettare questa situazione. Puoi rivedere questo documento? Puoi rivedere questo documento? Puoi rivedere questo documento? Loro fanno una corsa ogni mattina. Loro fanno una corsa ogni mattina. Facciamo una pausa ora. Facciamo una pausa ora. Io non sono sicuro di questa decisione. 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 Tu sei la luce della mia vita. Tu sei la luce della mia vita. Tu sei la luce della mia vita. Lei è un'esperta nel suo campo. Lei è un'esperta nel suo campo. Lei è un'esperta nel suo campo. Lui è il mio supporto principale. Lui è il mio supporto principale. Lui è il mio supporto principale. Noi non siamo pronti per questo cambiamento. Voi siete invitati alla cerimonia. Voi siete invitati alla cerimonia. Voi siete invitati alla cerimonia. Loro sono i nuovi membri del team. Loro sono i nuovi membri del team. Questo è il minimo che possiamo aspettarci. Questo è il minimo che possiamo aspettarci. Questo è il minimo che possiamo aspettarci. questi sono tempi per essere cauti. Questi sono tempi per essere cauti. Questi sono tempi per essere cauti. quelle non sono scuse accettabili. Essas non sono scuse accettabili. quelle non sono scuse accettabili. quelle non sono scuse accettabili. le non sono scuse accettabili. Tu sei il mio punto di riferimento. Tu sei il mio punto di riferimento. Tu sei il mio punto di riferimento. Lei è una persona affidabile. Lei è una persona affidabile. Lui è molto exigente. Lui è molto exigente. Lui è molto exigente. Lui è molto exigente. Voi siete i nostri ospiti speciali. Ustedes sono i nostri ospiti speciali. Voi siete i nostri ospiti speciali. Loro sono capaci di fare di più. 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 questo è tutto ciò che abbiamo. Questo è tutto ciò che abbiamo. Quella è una situazione temporanea. Quella è una situazione temporanea. Questi sono momenti che ricorderemo. Questi sono momenti che ricorderemo. Questi sono momenti che ricorderemo. Quelle non sono scuse valide. Esas non sono scusas validas. Quelle non sono scuse valide. Quelle non sono scuse valide. Noi non siamo coinvolti. Noi non siamo coinvolti. Noi non siamo coinvolti. Voi siete responsabili di questo. Voi siete responsabili di questo. Voi siete responsabili di questo. Loro sono sempre disponibili. Loro sono sempre disponibili. Questo è il massimo che posso fare. Questo è il massimo che posso fare. Questo è il massimo che posso fare. Quella è una situazione delicata. Quella è una situazione delicata. Quella è una situazione delicata. Questi sono gli ultimi giorni di scuola. Questi sono gli ultimi giorni di scuola. Quelle non sono le parole giuste. Essas non sono le parole giuste. Quelle non sono le parole giuste. Ti ha questa situazione. Non sono le parole giuste. Loro sono i testi. Per aver guardato il risultato. Guardate come. Credo. Per aver guardato il risultato! Anche la sua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.